Alle 11.36 di questa mattina Genova si è fermata per ricordare il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime del 14 agosto di tre anni fa. Un momento accompagnato dalle sirene delle navi in porto e dal suono delle campane delle chiese. Le urla, la pioggia, le lacrime, la polvere, ha ricordato Egle Possetti del Comitato in Ricordo delle Vittime, risuonano ancora dentro di noi. Nelle sue parole il desiderio dignitoso di avere giustizia. Chi ha gestito incautamente queste infrastrutture dovrebbe essere con le spalle al muro per che da quel giorno il vaso di Pandora sia aperto sulla miseria di un sistema senza dignità e senza umanità. La sensazione purtroppo è che il vaso pian piano cerchi di essere richiuso per dimenticare, per poter iniziare a riempire nuovi e numerosi altri vasi di Pandora. Possetti ha poi espresso il timore che la riforma della giustizia possa stroncare il futuro del processo sul crollo. Il ministro Cartabia però ha difeso il testo della riforma e ha dato ampie rassicurazioni. Non c'è mai, mai stato alcun rischio per il processo sul crollo del ponte Morandi. La mattinata ha preso il via alle 8.30 con la messa preseduta dall'arcivescovo Monsignor Tasca nella parrocchia di Certosa. Dobbiamo avere fiducia, detto tra le altre cose, in chi ha responsabilità istituzionali affinché tutto sia portato alla luce del sole. Essere qui oggi ci dà una mano, ci aiuta a non dimenticare, a non permetterci il lusso di far finta di niente. Credo che sia un lusso quello che davvero pochi si possono permettere oggi di far finta di niente. Nel corso della cerimonia è stato dato il via ai lavori per la realizzazione del memoriale 14 agosto 2018 negli spazi dell'ex capannone che ospitava i mezzi dell'AMIU, cui saranno ricordate per sempre le 43 vittime del ponte Morandi.